Il benvenuto a Patrizia Misciatelli, Presidente e fondatrice di IFO, qui a margine dell'evento che ha introdotto questa iniziativa legata alla formazione. Allora, dottoressa Misciatelli, ce ne vuole parlare più in dettaglio? Sì, volentieri. Abbiamo presentato alla comunità del network di IFO, alla comunità finanziaria di professionisti del mondo della fiscalità, del mondo legale, del mondo ovviamente del banking e del wealth management, abbiamo presentato IFO Academy per la costruzione, è la prima Academy per la figura professionale del family officer. Il family officer che cos'è? Che figura professionale è? È sostanzialmente la figura nella quale si identifica chi ha la responsabilità di condurre in maniera strategica la consapevolezza e l'ottimizzazione di un grande patrimonio. Come funziona meglio questa iniziativa? Ce ne vuole dare qualche dettaglio? Parlava di master, parlava di workshop? Sì, l'iniziativa prevede sostanzialmente due grandi modalità. La prima è un master che in realtà è cronologicamente successivo perché parte a settembre. È un master che lavora in continuità è una logica tra quattro blocchi di conoscenze. La prima è di tipo valutativo, quindi come fare a valutare e conoscere tutte le asset class di un patrimonio, sia analiticamente ognuna per se stessa, sia globalmente in maniera correlata tra le diverse asset class. Il secondo modulo invece prevede la capacità di riefficientare, per usare un brutto termine, comunque di riportare in efficienza il patrimonio medesimo, il portafoglio nelle sue diverse esigenze di rifinalizzazione. Poi ci sono due moduli, il terzo e il quarto, che già cominciano a toccare elementi non solo di tangible value ma anche di intangibilità. Il terzo infatti è concentrato sulla sostenibilità nel tempo e quindi studiare come far vivere nel tempo attraverso tematiche sia tecniche che valoriali un portafoglio di una grande famiglia, quindi multigenerazionale. Il quarto lavora sulle soft skills del family officer che deve essere evidentemente una figura professionale con delle sfumature che toccano anche delle skill individuali, quindi capacità di leadership, capacità di mentorship, di negoziazione, di comunicazione eccetera. Questo è il master, ogni lunedì per quattro mesi. Invece per quello che riguarda i workshop partono subito, il primo parte il 25 di maggio, sono sei workshop da qui agli inizi di luglio, anche questi nella giornata di lunedì che è l'appuntamento con IFO Academy e questi toccheranno invece delle tematiche ad altissima innovatività e ad altissima specializzazione, sono degli approcci verticali mentre il master è un approccio orizzontale. Il primo di questi parla di una tematica a cui teniamo molto ed è la filantropia strategica ed è il 25 di maggio ed è appunto come interpretare la filantropia da semplice espressione un po' casuale di charity a una metodologia strategicamente guidata e quindi sarà una tematica credo di alto interesse. Bene, grazie a Patricio Saloni Cattelli per essere stato con noi e con i lettori di Blu-Rating. Grazie. Grazie a voi, grazie.